Musica 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 Merida Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti ucciderà. Ti uccide a tutti. Ti ucciderò. tre cacciatori della cripta. La guerra si avvicina, e vi servirà ogni cacciatore della cripta che troverete. Signor Tassiter? Signor Tassiter è lì? Il signor Tassiter è stato rimpiazzato, zuccherino. A partire da oggi, tu lavori per me. Chi? John, sei tu? Chiamami Jack, tesoro. Jack il bello. Chiamami Jack. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!